Ciao a tutti, nuovo video, nuova partita, si gioca con la cadenza di 3 minuti più 2 secondi nella piattaforma scacchistica di ricesso, ho un punteggio elo con quest'account che si chiama scacchi per tutti, prossimo è 2500 punti, il mio berserro è 2400 punti e dopo t4 come prima mossa di gioco a cavallo f6, dunque a cavallo f3, a questo punto e6, ritengo, non solo io, che e6 è una delle mosse più elastiche, più forti in questo momento perché non esclude che il nero possa giocare d5, non esclude che il nero possa fare d5, c5 e d5 e in alcuni casi anche alfiere b4, qualora il bianco e avesse giocato c4, ok lui gioca g3, siamo nel pieno dell'apertura, andremo verso un'apertura catalana, a questo punto gioco una mossa strana, questa b5 ve la propongo adesso e poi la proporrò anche in qualche altro video, qual è l'idea? L'idea è posizionare quanto prima, prima possibile questa alfiere in fianchetto e chiaramente contrastare il suo, ovviamente in alcuni casi devo fare attenzione a qualche scoperta di cavallo. Ok, a4 sulla scacchiera, io gioco b4, prendo un po' di spazio dal lato della scacchiera, lui spinge in c4 e a questo punto metto il mio real sicuro. Il padrone b4, che non è fortissimo, dovrebbe essere difeso, dal proposito gioca a4, lui sta giocando in modo molto molto rapido quindi anche io devo cercare di accelerare un po'. Una spinta tematica è quella in c5 e la controrisposta tematica è senz'altro la successiva d5. Visto che lui ha giocato a cavallo d2, posso giocare cavallo e4 perché in caso di tentativi di scoperta contro quest'alfiere ho una fortissima intermedia come cavallo c3. Perché posiziono l'alfiere in e4? Perché successivamente quando spingo in d5, cosa che ho appena fatto, in caso di cattura la riprendo con il mio pedone che sostiene quest'alfiere. Ok, lui mi propone il cambio, io lo accetto volentieri, a questo punto c5 dovrebbe essere la mossa più adatta, però prima cerco di rimuovere questo cavallo. In caso di cattura riprenderei condonna dando scacco pronti lì a cambiare questo cavallo fortissimo bianco lì al centro della scacchiera. Il cavallo potrei cambiarlo comunque e poi proporre c5. Penso che sia proprio quello il seguito che giocherò. Da capire, da valutare se è meglio posizionare prima il cavallo d7 oppure andare verso una più tattica complessa e c5 immediata. Probabilmente c5 è la mossa più adatta in questo momento, è quella che sta catturando la mia attenzione. Vediamo se ci sono contraddicazioni, forse cavallo d7 lui potrebbe catturare, cavallo a6 non mi piace molto la spinta. Ok, c5 dunque sarà la mossa, vediamo su c5 se lui cattura. Come potrei provare a recuperare il pedone? Ovviamente con cavallo d7 ma lì alfiere d4 potrebbe essere noiosa. Ok, si intuisco che sto leggermente meglio ma non è ancora così facile. Ok, gioco cavallo d7. Se mi cattura riprendo il pedone c5 la giocherò dopo. 56 secondi per me, 2 minuti 40 per lui. Ok, la mia idea è fare c5, vediamo se posso farla adesso. In questo caso penso di... Ok, devo prepararla, torre c6 era quella che mi preoccupava, non l'ha giocata e allora a questo punto c5 dovrebbe darmi un gioco molto più facile. E donna b5, se gioco questa non mi cattura, gioco c3 e gli chiudo l'alfiere. Quindi sarebbe un buon... un buon baratto. Altrimenti inizio a dare la caccia alla donna che andrà in c6. Oppure pedone per d4. Oppure donna c7. Non saprei. Ok, proviamo la più tagliente. Abbiamo pochi secondi sulla scacchiera, sull'orologio, quindi devo cercare in modo... un modo tagliente di continuare la posizione. Semicattura, d'accordo, cambio qui, ho un cavallo b6 abbastanza forte, minaccio questo pedone e in altri casi minaccio qualche incursione sulle case chiare. Anche in questo caso donna d5 penso che sia più che possibile. Idea doppio. Idea doppio, idea cavallo b6. Cavallo b6 è abbastanza forte perché ha questo pedone. Qualcuno dovrà difendere, qualcuno sarà la torre che andrà in una posizione peggiore perché mi permetterà l'attivazione della mia. Ok, lui sceglie il seguito più forte, più attivo, quello di attivare rapidamente i suoi pezzi. C'è un tema di matto del corridoio che dovrei tentare di tenere sotto controllo. Intanto b3 dovrebbe guadagnare un pezzo perché alla prossima arriverà b2. E dall'altra parte lui è pronto a spingere il pedone d. Quindi poi ci sarà questa fase di tattica, di calcolo dove bisogna vedere chi arriva prima. Ok, b2 sulla scacchiera, l'umicattura, io riprendo. A questo punto direi che devo creare una via di fuga. Intanto gioco un torre d8. In realtà non voglio catturare, non posso, altrimenti c'è matto. E quindi d5 potrebbe essere una risposta anche se in quel caso cavallo c4 sarà decisiva. Torre d8 è una mossa che specula un po', vuole provocare e3 perché in quel caso anche lì ci poteva essere la cattura di cavallo. Adesso sono pronto a creare una via di fuga. Intanto questo scacco intermedio mi cattura, guadagna quel pedone. Adesso è tutto molto più facile. Quindi 26 secondi, il tempo è l'unico aspetto negativo, però questi due secondi per ogni mossa chiaramente mi danno ragione. Mi portano a una posizione più semplice. Ok, G6 sulla scacchiera. Da parte sua dovrebbe cercare di semplificare il più possibile. Ok, intanto questo lo possiamo migliorare. probabilmente lo porto qui. Dovrebbe ritornare in gioco. Torre d3 potrebbe essere una minaccia. Oppure semplicemente lo porto in d4. Ok, facciamo un torre 8. Più che altro per evitare fastidiose spinte con e6. Mi vuole dare matto. Ok, il cavallo dovrebbe andare lì per scacciarlo. Lo faccio questo giro. Un po' articolato, però l'obiettivo è quello di scacciare il mio avversario. Forse ha e6 a disposizione. Cavallo per e5. Tutto sotto controllo. E alla prossima lo scaccio. Ok, tanto reggi 7. In alcuni casi minaccerà matto. Scacco intermedio. Torre indietro. E torre per. Sarà la prossima mossa vincente. Magari posso giocare prima un f5. Qualsiasi cosa accada. Torre per e4 vincerà. Semplifico tutto. Pedoni di vantaggio. Pedoni liberi. Torre per. Già è sufficiente per vincere il finale di pedoni. Però per essere un po' più precisi. Soprattutto quando si è accorti di tempo. Scelgo la linea più semplice. Ok, a questo punto cavallo f6. Idea. Torre 4. Semplifico. E pedoni per. Questo è un finale facilmente vinto. Il finale sarebbe vinto anche in assenza del cavallo. Perché il re nero conquista spazio. E quindi questa conquista di spazio mi permette di promuovere senza il bisogno di utilizzare il cavallo. Essendoci questi due secondi di vantaggio il mio avversario alla fine decide di rendersi. Ok, adesso ho un elo su questo account. Scacchi per tutti. In tanti mi vedete giocare con account diversi. Ho un elo di 2500 punti. Vediamo un po' come è andata la partita. Questa b5 è molto interessante. Potrebbe essere un'anti-catalana. Quando il vostro avversario fianchetta perché da lontano vuole controllare queste case chiare. Potreste proporre questa mossa per essere voi stessi e controllare le case centrali. La partita è andata in questo modo. A4. Logica. Vuole togliere questo pedone. Bianco. Il nero lo spinge. Bianco. Gioca c4. Questa cattura al passo che come vedete ha dei precedenti. Già stata giocata in altre occasioni. In realtà non mi piace tanto. Mi piace più l'idea di complicare il gioco. E a tra proposito giocare qualcosa come a rocco per poi giocare a 5. La posizione raggiunta è la seguente. D6. Interessante. Ok. D6. Cavallo d7. C5. Poteva essere un piano. Altrimenti cavallo d4 che è quello che ho appena fatto. Fiere b2 sulla scacchiere. D5. Tematico. Nel momento in cui il vostro alfiere di fianchetto contrasta l'alfiere catalano del bianco, l'alfiere va al centro e poi sostenduto da un pedone si trova in una posizione abbastanza forte. Ok. Avviene il cambio. Qui l'alfiere F6 sono sicuro che è una mossa abbastanza corretta. F4. Alfiere per. Pedone per. C'è qualcosa che mi sfugge. Eccolo qui. Ok. Intuivo che ci potesse essere qualcosa. La sequenza più forte sembra essere questa. E in caso di cattura, probabilmente cavallo a6, recupero qui. Ecco il mio pedone b4 libero. E potrei ottenere un vantaggio. Ok. Questa è la posizione. L'idea è fare c5 un po' poco preciso, ma qui senz'altro era anche una necessità dell'orologio. Torre c6 mi sembra sicuramente che sia la migliore mossa per il bianco. Mi blocca il pedone, mi crea quel pedone arretrato che in altri video avete già visto. E poi il suo piano potrebbe essere prenderlo di mira. Quando gioco c5 mi libero. Ok. Questa c4 mi sembra abbastanza forte. E anche cambi. Qui. Nonostante abbia un pedone in meno, non mi preoccupa affatto la posizione raggiunta. Minaccia di doppio. E dopo cavallo b6, quello che dovrebbe cercare di fare è torre indietro. Torre a1. Il problema è che torre c8 è già una mossa abbastanza forte. Il suo alfiere è abbastanza passivo. Quindi questi due pedoni compensano il pedone in meno. Anzi direi che qui il nero sta sicuramente meglio. La partita è andata in questo modo. Un po' superficiale lui perché in realtà questa non è una minaccia. Non ha probabilmente parecchie mosse da giocare. Forse rf3 cercherà di rafforzare questi tre pedoni insieme. E poi il resto della partita, nel momento in cui è caduto quel pedone centrale, è stato molto agevole per me. Spero di avervi dato qualche idea nuova contro la catalana. Appuntamento alla prossima. Ciao a tutti. Grazie a tutti.